salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in questo video andremo a prendere il trofeo senza toccar terra metti a segno lacerazione acrobazia crudele e arrocco della torre a mezz'aria prima di atterrare per poter equipaggiare tre abilità dello stesso eicon ne dovremo portare almeno una di queste al massimo quando la portiamo a massimo ci sarà la scritta padroneggiata e la potremo equipaggiare su qualsiasi altro eicon potete potenziare padroneggiare tranquillamente quella che preferite non è importante importante averne una la terza dietro che sia una di queste tre che ci servono per il trofeo per il trofeo scelto questo mostro che è più grande ed è più facile da colpire ma ovviamente non ha importanza quale quale mostro andiate a colpire importante usare le tre abilità insieme mentre siete in aria per essere sicuro di prendere il trofeo preferito saltare usare acrobazia che ci porta ulteriormente in alto però prima di cliccare la seconda abilità dovete aspettare che si ricaschi in giù clive perché se la fate in aria e non colpite il nemico non vi conta il trofeo quindi dovete colpirlo con tutte e tre le abilità per sbloccare il trofeo salvate casomai di fronte al mostro nelle vicinanze e questo è quanto ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile per il trofeo grazie a tutti per la visione vi auguro una buona giornata grazie 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 grazie